La Diesel Technic Cup alla Cresto Trinità che verrà nella stagione 2020-2021. Tante li conferme e possibili sorprese nelle prime due settimane di luglio quando saranno annunciati i trasferimenti e ragionevolmente anche i volti nuovi della squadra bianca-azzurra. Ne abbiamo parlato con il direttore sportivo Andrea Durante. Noi non ci siamo mai fermati, abbiamo iniziato a lavorare da subito, a dialogare con i nostri giocatori dopo ovviamente aver sentito i nostri sponsor che ci hanno confermato il loro sostegno anche per il prossimo anno e quindi permettono di dare concretezza alle nostre idee. Abbiamo iniziato a parlare da subito con i nostri giocatori trovando grande disponibilità da parte loro a continuare un percorso sportivo iniziato lo scorso anno e quindi posso già anticipare che probabilmente il roster nella grande maggioranza dei casi sarà molto simile a quello dello scorso anno. Questo però non vuol dire che non ci saranno dei cambiamenti, delle novità. Quali sono, ovviamente in attesa di conoscere anche i nomi dei nuovi giocatori, i nuovi punti di forza e quindi le caselle su cui è stato innestato il roster della prossima stagione? Allora, stiamo lavorando bene, stiamo lavorando in maniera concreta. Ancora ci stiamo concentrando a ultimare gli ultimi dettagli per quanto riguarda i rinnovi. Posso dire che la società si sta muovendo anche in maniera forte e concreta per rinforzare la squadra e probabilmente nelle prime due settimane di luglio ci saranno delle novità molto, molto importanti. La composizione del roster ovviamente appare già piuttosto avanzata. Che identità avrà la squadra che vedremo nella prossima stagione? L'identità è sempre quella forte. Innanzitutto partiremo dalla nostra forza di base, dalla nostra consapevolezza che è il gruppo Salese. Ma ormai tutti i giocatori che hanno deciso di continuare il nostro percorso, lo vedremo poi negli annunci per quanto riguarda le conferme e i rinnovi, si definiscono Salesi e tutti noi li definiamo i nostri fratelli che fanno parte del nostro territorio in tutto e per tutto. Grazie.